Noi pensiamo che lo sport sia fondamentale per le periferie. Pensiamo, cioè, che lo sport sia fondamentale per costruire comunità. Pensiamo che lo sport sia il grande valore per gli ideali di questo Paese. Noi crediamo allo sport. Partiamo di lì. E il fatto che si sia deciso, in modo secondo me sbagliato, di tarpare le ali a questo sogno, non toglierà niente della nostra energia e della nostra determinazione, perché si continui a dare a quei bambini, i nostri figli, il diritto di mettersi in gioco, nel senso letterale del termine. Ieri, con la decisione ufficiale di chiudere il Comitato Roma 2024, alcune periferie hanno festeggiato. Sono le periferie di Parigi e sono le periferie di Los Angeles, non le periferie di Roma. Ieri le periferie che hanno fatto festa sono le periferie delle città che si prenderanno i denari che arriveranno dalle Olimpiadi, ma che utilizzeranno quella occasione per crescere come hanno fatto le grandi città che sono state capaci di vincere la sua vita.